Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot Allora nello scorso video siamo venuti a conoscenza che Goku tornerà sulla terra dopo 7 anni dallo scontro con Cell per partecipare al torneo in vista nel quale parteciperanno anche Gohan e Vegeta Allora prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi Allora andiamo all'arena del torneo mondiale Ah ok allora vediamo se mi manca qualcosa Forse è meglio prendere qualche Vita Drink in più qua Ok cura cola ripristino 10 ripristino 20 ripristino 30 ma costa bene? Troppo Troppo Ok vediamo se riesco a vendere qualcosa Sì va benissimo va benissimo No questo no Ok va bene dai Wow soldoni Ottimo Allora facciamo un attimino sta cosa Ah Allora mettiamo così Ok possiamo andare al torneo Allora facciamo un attimino 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 Sì. Sì, sono davvero molto assicurante. Mi. Saturno! Mi. Saturno! Mi. Saturno! Mi. Saturno! Mi. Saturno! È un'esperienza di giverte il mondo. Sì, è vero! Piccolo, hai visto il tuo padre? Ah, non ho visto. Ma tu sei che sia in questo modo in questo modo? Cosa è stato fatto, Gukusa? Sono già andato al giocatore del giocatore. Ma è stato buono? Gok... Gokku? Che è venuto! Son-kun! Gokku! 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 Eheheheh! Ha!! VMm!? Gokku, your father is up before! Aah! You are gonna write my kids up by myself! Gokku… Gokku… Gokku uh... grazie a tutti grazie a tutti oh oh grazie a tutti grazie a tutti oh grazie a tutti 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 Il nostro corso il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso. Il nostro corso il nostro corso il nostro corso. 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 Il nostro corso il nostro corso il nostro corso il nostro corso. 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 Vigel! Non... ... 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 Non lo so, non lo so. Alla male di chiama! O...oi! Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ci sono sempre più che! Spopovicci! Non ci sono cose che faremo così! Voi? Sì, vieni a venire! Ah... Vieni! Spopovic! Vieni! Spopovic! Vieni! Non lo so, tu solo! Entendete? P...Punker! Non, mi miro. Io lo sopendo. Aizu... Aizu... ...yannu... ... ... ... ... ... Seguire il primo giusto, il 2 passaggio è un'altra cosa che si chiama. Ah, la gente ha fatto la prima volta. Eh, bello. Veedle, mi sembrava che stai colando, e per farvi provare il pane. Ah, è la tua cosa. Vabbè, una cosa che si tratta di un'altra cosa che si tratta di un'altra cosa. Sì 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 Hã? 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 Ha? Hã? Ha! Si 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 si. Ta'lhtubare, Gohani! Sì 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 Sì